Buongiorno! Abbiamo i ceci bianchi con l'olio. Abbiamo le polpette. Dopo tanto tempo che è sembrato più lungo di quello che effettivamente non lo è stato, siamo riusciti a tornare in questo posto con la nostra presenza per dare un motivo di distrazione, ma anche di gioia agli ammanati che sono in questo posto. Essi erano abituati alle nostre visite che purtroppo sono stati interrotte per i motivi che tutti conosciamo e che sono addebitati al Covid-19. Oggi siamo potuti tornare, abbiamo potuto constatare il loro sorriso, la loro soddisfazione con la speranza che il problema che abbiamo oggi si risolva presto e che si possa tornare tutti liberi di circolare in mezzo alla gente e ricostruire ciò che si è perduto in questo periodo di coronavirus. Oggi in prossimità delle feste notarizie abbiamo offerto ai degenti gerobrolesi un po' di alimentari, cibi cotti, dolci, perché anche loro hanno diritto ad essere tranquilli e a ricordare queste feste. Cos'è che noi possiamo fare ancora? Appena sarà possibile tornare con cadenza periodica come prima e quindi riprendere il dialogo che purtroppo è stato interrotto. Speriamo che tutto vada per il meglio.